La sua maestra, Ekaterina Vaganova, è abituata alle competizioni ad alto livello e conosce tutti i trucchi per valorizzare il sex appeal del suo ballerino. Gli ormoni della Smith sono avvisati. E Ekaterina? Sì, io sono russa. Ti vengo da Napoli. Napoli non so se la conosci. Bellissima città. All'inizio non dobbiamo stare troppo distanti. Dobbiamo s'azzuccare. Mi fa piacere a me. Come dobbiamo stare? Azzuccata. Azzuccata. Sergio ha una marcia in più e ha due occhi che fanno sognare. E Ekaterina Vaganova, non è solo una ballerina, è una bomba. Mi giro un po' con la testa. Non lo so se per il tango o per qualche altra cosa. Allora. Ma sto studiando. Però mi rendo conto che stare a contatto così, cioè, è pericoloso, cioè, è difficile. Mi sento un uomo, no, mi sento un uomo tango. Sì, sì, quello che ha a filmare la piglia, la butta per te la piglia per i capelli, la fa girare e la lancia. Nell'idea, ovviamente. Ma che hai fatto? Tanti ragazzi i capelli. Sensuale, no? No, no, stai bene perché stai bello. Cioè, stai bello. Oh, mi piace. Sergio è molto affascinante. Oh, sì. E siamo qua. Siamo qua. Salve. Buonasera. Chiamavo Sergio. Stai. Mi sento? Sì, scusi. Hai sicuramente un carattere molto forte. Io come maestra devo essere brava a gestirlo. Guarda il cavo. Poi ti guardo. Ah, e si desidera quello che passa attraverso gli occhi. Posso scendere? Due giorni che non ti vedo. E' pinto. Non è, sono cose mie che... Mi sono mancato. Cominciamo, eh? Subito mi sei mancato. Uno... No, ma però mi mancava il ballo. Tu mi dici...